Siamo in seminario, c'è il luogo in cui hai abitato negli ultimi anni e quindi ormai è una seconda casa per te. Cosa significa? Beh, sicuramente la formazione che il seminario cerca di dare non è tanto quella di un collegio, se non proprio invece di far sentire ogni seminarista a casa propria. Tante volte parlando in casa spesso dico torno a casa, vado a casa e anche i miei parenti non capiscono, gli amici tantomeno, perché a volte io stesso confondo i termini, proprio perché negli anni stare qui è proprio sentirmi a casa. Don Davide, che compagno di seminario è stato? Io lo chiamo sempre scherzosamente il ragazzo vivace perché nonostante che nei momenti in cui è richiesta serietà possa apparire davvero come una persona molto seria, però è davvero molto vivace, con sempre tanta voglia di scherzare. Come è stato questo percorso in cui qualcuno prima di te ti ha anticipato, ma allo stesso tempo tu adesso sei guida per qualcuno che è più giovane di te? Sicuramente è una sensazione molto strana, ricordo molto bene che quando vedevo questi passi compiersi con i miei compagni di seminario più grandi, ormai sei, sette anni fa, li guardavo pensando chissà quando, se e quando sarà per me, e poi invece mi rendo conto di quanto il tempo poi sia volato e sia stato veloce, sicuramente sintomo del fatto che qui, come dicevo prima, mi senta a casa. Per quanto riguarda la relazione con i più piccoli, diciamo, cioè quelli che sono arrivati dopo, sicuramente è una grande sfida perché da un lato la realtà di casa porta a mostrarsi come in ogni famiglia senza molti filtri, no? Quindi anche con le fatiche che ci sono nel corso del tempo, che non mancano come in ogni scelta, le stanchezze, allo stesso tempo però sono chiamato anche a testimoniare quello che veramente è, cioè la gioia che ho nel vivere questo, no? Davide, Don Davide, ho conosciuto gli ultimi due anni molto bene nel percorso in seminario e quindi ho potuto vedere un po' la sua persona e soprattutto abbiamo vissuto insieme questo momento missionario di due mesi insieme a Cuba dove l'ho portato dalla missione interdiocesana e quindi lì ho potuto conoscere un po' le loro persone. Di Don Stefano io non ero ancora rettore, ho fatto quasi tutto il percorso con Don Michele, il precedente rettore, però ricordo molto bene il momento in cui è stato ordinato diacono perché io ero l'amministratore parrocchiale della sua parrocchia, quindi era stato molto bello il fatto che lui diventava diacono negli stessi giorni in cui la sua famiglia apriva una mensa per i poveri nella parrocchia di Santa Caterina e quindi lì l'ho potuto conoscere, l'ho potuto vedere il suo entusiasmo, conoscere anche un po' le origini della sua vocazione, del movimento liturgico e poi tutto il cammino che è stato fatto. Dopo gli anni in seminario sei stato assegnato e sei andato a vivere in parrocchia a San Pietro di Quinto, qual è stato il primo impatto e il passaggio dai banchi di scuola a vivere la realtà della comunità? Allora il primo impatto è stato, diciamo veramente, mi ha colpito moltissimo, è stato strabiliante. Don Corrado è un grande, è molto estroso e mi ha presentato alla comunità in modo molto particolare. Io non avevo mai vissuto intensamente la vita parrocchiale, anche se ne vengo da una bella comunità, Santa Caterina in Via Napoli. Non ero mai stato parte come giovane, come supporto, come affiancamento a tutte le realtà e quindi inserirmi è stato bellissimo perché passi dai libri, dai banchi di scuola, dalle relazioni con i tuoi compagni, tutto molto chiuso, bellissimo ma molto chiuso, ti si apre il cuore. È un trascinatore, è una guida e ce n'era proprio bisogno. Infatti avevamo già un bel gruppo di ragazzi, dalle elementari alle superiori, ma poi lui essendosi inserito anche nelle medie dell'Istituto Comprensivo Pegli, i numeri sono triplicati, questo vuol dire che sicuramente è anche carismatico, però è una persona che è molto accogliente e che, essendo estremamente sensibile, sa cogliere in ogni ragazzo il bisogno. Con i bambini è sicuramente un punto che focalizza, focalizza l'attenzione dei bambini e anche per noi catechiste. Con i bambini riesce ad essere coinvolgente, riesce a mettersi insieme con loro e a giocare e nello stesso tempo riesce però anche ad aiutarci a trovare il modo di annunciare Gesù, soprattutto nella gioia. E quindi noi siamo partiti, siamo venuti qua, non conoscevamo assolutamente nulla, ci avevano presentato come una comunità enorme, con un sacco di attività, c'è la polisportiva, c'erano delle catechiste, un super gruppo di catechiste molto curate da Don Piero, e quindi noi siamo arrivati qua e abbiamo detto, boh, cosa dobbiamo fare? Non sapevamo. Poi conoscendo piano piano con gli altri preti del vicariato e tutto, abbiamo visto che la parrocchia di Pegli è una miniera, una miniera di opportunità, una miniera di risorse, una miniera di tantissime cose bellissime, e quindi noi ci siamo detti, cosa ci resta se non essere noi stessi e mettere i doni che il Signore ha fatto a noi, nella nostra persona, a servizio di chi c'è. E quindi se uno sta bene con i giovani, apre un po', apre uno spazio, Don Corrado magari cura di più altre cose, e siamo qua, ci siamo, ecco, cerchiamo di esserci totalmente.